C'è un obiettivo che si chiama Rio 2016, ti stai allenando molto, stai facendo un bel lavoro, il ciclo che non ottieni ti supporta, raccontaci un po' fino a qui come è andata e qual è il tuo pensiero per i prossimi, chiamiamoli due anni. Siamo in piena preparazione invernale, ormai è la fine della stagione, abbiamo deciso di non partecipare alla regata di Palma de Mallorca dove inizia la stagione europea per poterci focalizzare su alcuni aspetti che dovevamo migliorare dal punto di vista tecnico e quindi domani parto per l'ultima sessione di allenamento a Cagliari e dopodiché inizia la seconda tappa di Coppa del Mondo perché la prima è stata a Miami a gennaio in cui abbiamo preso la medaglia d'argento e sono molto fiduciosa per quanto riguarda la nostra performance a ieri perché abbiamo migliorato moltissimi aspetti sui quali prima eravamo carenti, quindi non vedo l'ora di partire per la Francia per questa tappa di Coppa del Mondo e poi ovviamente ci sarà tutta la stagione con l'altra tappa di Coppa del Mondo in Inghilterra, Weymouth che è il campo di regata delle Olimpiadi di Londra che ormai conosco abbastanza bene dopo tutti gli allenamenti fatti e poi europeo e mondiale in Argentina intramezzati da regata test event appunto a Rio de Janeiro dove sarà la regata obiettivo perché ovviamente campo di regata delle Olimpiadi si cerca di fare tutto insomma come se fossero Olimpiadi Tu che l'Olimpiadi legge è fatta, verso Rio 2016 hai acquisito consapevolezza, che cosa c'è in più? C'è in più come dici tu tanta consapevolezza, tanta consapevolezza che viene anche da un tipo di lavoro soprattutto dal punto di vista mentale, lavorando con il mio mental coach Massimo Giardino che mi ha messo a disposizione la Niene, che è stata per me una svolta fondamentale per la mia carriera velistica e stiamo lavorando moltissimo anche su questo aspetto perché ovviamente oltre all'aspetto tattico, tecnico, strategico e fisico l'aspetto mentale purtroppo non tutti ancora credono che sia una cosa fondamentale che ha la stessa grandezza della fetta della torta degli altri e quindi penso che è una cosa che a me mancava e sono certa che sono tanti piccoli tasselli che si vanno a incastrare e sono sicura che daranno i suoi propri frutti Buon vento e bocca al lupo Grazie 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 Grazie